60 volontari, 2 case gestite, 13 posti letto e 200 ospiti ogni anno. L'associazione di volontariato La Casa della Gioia si occupa dal 1999 di solidarietà nel Pesarese. La principale attività dell'associazione è la gestione della struttura di prima accoglienza Casa Mariolina, in collaborazione con il Comune di Pesaro, la Fondazione Cassa di Risparmio e la Fondazione Banco Alimentare. L'edificio è situato in via dell'Acquedotto 23, a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e dall'ospedale San Salvatore, a gestire la casa, destinata ad accogliere persone senza fissa dimora, sono i volontari. Quei volontari, i chiaturni, accudiscono coloro che vivono ai margini della società. Servono però altre braccia sulle quali poter contare per proseguire l'attività di ospitalità del Senzatetto, che poi vengono indirizzate allo sportello Caritas, ai servizi sociali o ad altre strutture. Non c'è solo la prima accoglienza. Noi negli anni abbiamo sviluppato anche altre due realtà, Casa Primavera e Casa Aurora, come vedete qui nelle mie spalle, l'abbiamo messa nel nostro stand. Casa Primavera e Casa Aurora sono delle strutture d'accoglienza dove cerchiamo di fare la seconda accoglienza. Quindi la seconda accoglienza cerchiamo di reinserire le persone nella quotidianità. Sono divise Casa Primavera e Casa Aurora perché una è maschile e l'altra femminele. Attualmente Casa Primavera è chiusa per mancanza dell'alloggio, se no era un appartamento nel quartiere di Villa San Martino. Casa Aurora invece è tuttora operativa, ha sei posti disponibili e si trova nel centro storico. Quindi anche la logistica della posizione di Casa Aurora è proprio per combattere l'emarginazione. Trovandosi nel centro storico le persone ospitate sono subito reinserite nel flusso cittadino, nella vita quotidiana. Quindi effettivamente il cittadino come può aiutarvi? Il cittadino può aiutarci con donazioni. Abbiamo sul nostro sito il nostro numero per il 5 per 1000 o anche l'Iban. Ma ci farebbe ancora più piacere se il cittadino venisse a provare il volontariato da noi. Il volontariato da noi si basa su due turni, quello serale della cena e quello notturno. Quello serale si basa dalle 18.45 alle 21.30. Si svolge con tre persone di cui uno è responsabile e si cena insieme agli ospiti, si dialoga con loro nella piena convivialità. La struttura ha sette posti, il clima è molto sereno. Abbiamo necessità di forze fresche e nuove idee. Da cosa nasce cosa e più persone collaborano in questa realtà meglio si riesce a concretizzare anche.